Un'accelerazione sulle autorizzazioni che dovrebbero consentire di dare il via libera ai primi cantieri della Guin Refineri a Gela, ma ci sono tanti dubbi a cominciare dal finanziamento dell'area di crisi complessa. E' quanto emerso ieri al termine dell'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in merito all'avvertenza a Gela. Il tavolo interministeriale ha messo uno accanto all'altro rappresentanti dello Stato, del Governo regionale, del Comune di Gela, sindacati ed eni. Domani intanto si riunirà la Commissione del Ministero dell'Ambiente per la non assoggettabilità della valutazione di impatto ambientale. Il progetto Guaiulla rimane in alto mare, secondo i sindacati, dato che sarebbero ancora in corso attività di ricerca ed eventuali campi da utilizzare per la coltivazione. Sono tre i cantieri di bonifica che dovrebbero partire a breve, su un totale di 11. Si accelera ma non si conclude? Si accelera per un momento di stasi che non portava sicuramente a nulla un'accelerazione con tempi a 30-60 giorni di avvio di cantieri, già sono dei dati diversi. È chiaro che era normale che in un tavolo si debbano, che fra l'altro cosa è un tavolo di verifiche e di controllo, e proprio per la continuità, per l'attuazione del protocollo d'intesa. Noi stiamo cercando di allargare anche le prospettive. Questo è quello che stiamo cercando di fare, tra cui i sindacati, devo dire, che hanno sottolineato parecchio il discorso degli ammortizzatori sociali, perché se non c'è lavoro ci deve essere almeno un sostegno al reddito. Questo l'hanno sottolineato in modo chiaro, in modo forte, perché giustamente quando nel protocollo c'era scritto che veniva garantito un reddito nelle fasi transitorie, ma questo di fatto sta avendo degli impedimenti ed è stato fatto risaltare. Quindi io spero che partino il prima possibile i cantieri. L'Eni ha detto che a maggio partiranno già i primi, c'è qualcosa che partirà addirittura anche a marzo, però il problema è anche il numero di persone e di addetti che ci saranno occupati e il tipo di addetti che ci saranno occupati. I lavoratori che sono qui, oggi il Comune di Gela cosa dice? Quando andranno a lavorare? Perché aspettano notizie concrete, fatti immediati? No, il fatto immediato era difficile che si potesse avverare fin da subito. Se ne riuscite a partire qualche piccolo candiere già nelle prossime settimane, ma fatti immediati era sicuramente difficile, anche perché stiamo riuscendo a smuovere delle autorizzazioni che erano ferme da anni e svincolare tutta una serie di attività che negli ultimi mesi sono state praticamente ferme. E recuperare un anno e mezzo nel giro di 3, 4, 5 mesi non è così semplice, perché è abbastanza complesso considerando che operiamo all'interno di un sito di interesse nazionale e che operiamo all'interno sempre di un polo industriale che è stato di fatto dismesso e spento. Quindi era meglio prevenire. Adesso noi dobbiamo gestire quello che ci hanno lasciato, che sinceramente non è il massimo, è di difficile gestione. Il problema dei lavoratori è giusto che vengano, se non c'è la possibilità di lavorare, che ci siano gli ammortizzatori sociali. Su questo devo dire che anche i sindacati sono stati molto chiari e l'hanno ribadito. Infatti stanno prestando anche con il Ministero del Lavoro, oltre che a questo tavolo di verifica del protocollo d'intesa. Però è chiaro che i passaggi che sono stati fatti vanno per far attuare intanto questo protocollo, ma in realtà è sempre un palliativo, perché questo, come ben sappiamo, quando si va a concretizzare tutto il protocollo d'intesa sappiamo che non tutti potranno lavorare, né adesso e il numero di addetti fra due anni sarà molto ridimensionato. Quindi la sfida maggiore è quella di costruire qualche alternativa che fino adesso non è stata fatta.